E benvenuti alla Notte Horror, siamo a Halloween 2021, Vigilia Donnissanti e per questa Notte Horror vi suggeriamo due film che sono poco conosciuti sicuramente dai nativi digitali. E la generazione Z e compagnia bella. Noi cerchiamo ovviamente se un coetaneo, un cinquantenne, guarda questo video e conosce sicuramente i film, poi se è un cinefilo dirà anche no, ma cosa ci vai raccontando. Ma è chiaro che questo video non è fatto per loro, se vogliono ricordare alcuni film particolari. Ma sicuramente, come dire, un nativo digitale, un giovane di oggi, un ventenne di oggi, magari non ha visto questi film, non li conosce. E quindi ci fa piacere se da questo video ricevono un input ad andare a scavare. Perché comunque ricordiamo che la cultura cinematografica, cinefila, è una forma di cultura che dobbiamo sempre coltivare. E cosa c'è di meglio che andare a ricercare come degli umanisti del 300-400 che andavano a scavare nelle biblioteche la ricerca di libri antichi. E riportarli alla luce. Allora, i due film che voglio riportare alla luce sono in versione di tendenza su Halloween, uno si aspetterebbe un horror. Ci parli di un horror. E invece no. E invece no. Cioè, perlomeno, non un horror to cure. Ma, eccolo qua, il DVD, il DVD della Dolmenon Video, per la serie DVD Cult, I Diabolici. Vi consiglio questo gioiello, gioiello della suspense, del thriller, girato in anni Hitchcockiani, ma qui non c'è Hitchcock, qui c'è quel gran genio, l'altro grande genio di Henry Georges Clouseau. Questo è, come dire, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico francese, considerato uno dei principali protagonisti del cinema noir degli anni 40 e 50. Nato a Gnor nel 1907 e deceduto nel 17esimo arrondissement di Parigi nel 1970. Qual è la trama dei Diabolici? Che è il primo film che vi consiglio per questa notte horror Halloween 2022. La moglie, l'amante del direttore di un collegio per ragazzi, si accordano per uccidere l'uomo dispotico, arrogante. Sicuramente un esempio di metà anni 50 della no cultura patriarcale all'epoca imperante. E cosa fanno queste due donne? Lo affogano. Lo affogano. Ma poi, ma poi, misteriosamente, il cadavere scompare. Mentre intorno alle due donne si moltiplicano eventi davvero inspiegabili. I Diabolici di Henry George Clouseau. Vi dico solamente che Mereghetti gli dà quattro stelle piene. E i personaggi sono ricchi di sfaccettature e sottintesi dal cattolicesimo morboso di Cristina. Cristina de la Salle, interpretata da Vera Clouseau, la moglie di Clouseau, del regista. La seconda moglie del regista. Tra l'anziana insegnante. Scusate, dal cattolicismo morboso di Cristina, ai tratti sadiani di Michelle, all'ambigua complicità tra le due donne. L'altra donna è l'insegnante Nicole, interpretata da una bellissima madre putativa epigona di Sharon Stone. Se negli anni 90 c'eravamo Sharon Stone, negli anni 50 c'era Simone Signoret. Una donna bellissima e affascinante, perfetta nel ruolo di questa fan fatale. Incalcolabile influenza sul cinematriller horror avvenire, Hitchcock in testa. Quindi, come primo, naturalmente poi è stato fatto un remake nel 96 con la Janie e con appunto la Sharon Stone nel 1996, ma è un remake assolutamente ignobile. Io vi parlo dei Diabolici del 1955 per questa notte horror Halloween del 2022. Sì, un thriller, questa volta invece di un horror vi suggerisco un thriller. Invece andiamo al secondo consiglio per la notte Halloween, un film del 1980, anche questo sconosciuto ai più, The Changeling, ma non The Changeling quello di Clint Eastwood con Angelina Jolie. No, sto parlando di The Changeling del 1980, di Peter Medak col premio Oscar George C. Scott e Trish van de Verre. Allora, brevemente la trama, cosa succede? Questo musicista, questo musicologo, dopo aver perso moglie e figlia in un incidente stradale, questo musicologo, anche pianista, John Russell si trasferisce in una villa isolata di Seattle per dedicarsi a una nuova, come dire, composizione. Ma nella villa che lui abita, 70 anni prima, è successo un fatto di sangue che ancora grava, come ipoteca horror, orrorifica e fantasmatica su questa casa. Naturalmente, John Russell scoprirà a suo danno che cosa è successo 70 anni prima in quella casa. Allora, ci sono grandi citazioni in questo film, c'è la citazione della pallina d'Operazione Paura di Mario Bava, la pallina che rimbalza, che scende le scale, l'atmosfera funziona e anche il ritmo, ricordiamo un film del 1980, per alcuni può essere un po' lento, però serve assolutamente a creare l'atmosfera. In più c'è la scena del registratore in cui si sente la voce della persona che ha abitato questa villa, che è una sequenza che mette veramente, veramente i brividi ancora oggi. Alcuni critici, questo The Changeling di Peter Medak, lo hanno addirittura visto come un antesignano di The Ring, come un anticipatore del The Ring e fonte di ispirazione di The Ring, ma ci sono anche debiti nei confronti appunto del gotico italiano. Nonostante questo sia un film al confine, però girato con capitali canadesi, vi diciamo solamente che c'è nella trama questo mito norreno, nordico, dei bambini scomparsi, e così in sospeso vi lasciamo. Grazie per aver visto questo video, iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciate un dislike, lasciate un commento, una critica, qualsiasi cosa, però guardatevi i diabolici e guardatevi di questi film per questa notte horror e The Changeling di Peter Medak. Mi raccomando, buona visione e buona notte horror, buona vigilia di un insanti 2021, buon divertimento, buon brivido e alla prossima.